Provengono da tutta la Toscana, ma soprattutto dalle province di Arezzo, Siena e Grosseto, i 634 giovani che hanno presentato domanda per accedere ai fondi del bando della regione per le imprese in agricoltura, nell'ambito del progetto Giovani Sì. Il presidente Enrico Rosse e l'assessore Gianni Salvadori li hanno incontrati a Firenze per fare il punto sui 112 milioni di euro di investimenti che sono in ballo, di cui 50 finanziati dalla regione. Metà riguardano l'ammodernamento delle aziende. È cosa importante e decisiva perché in questo modo garantiremo futuro all'agricoltura e garantire futuro all'agricoltura vuol dire paesaggio, vuol dire ambiente, vuol dire energia, oltre che chiaramente una grande opportunità per la Toscana che è quella del food, dell'alimentare per candidarsi in maniera autorevole ad essere la food valley dell'Europa. Un terzo dei giovani che ha fatto domanda per investire in campagna a meno di 25 anni. Il 66% sono uomini e il resto donne. Perché hai deciso di partecipare a questo bando? Perché ho molta passione nella natura e anche nell'agricoltura. Per non fare la solita agricoltura della vigna e degli olivi, ma dare un rinnovo con i giovani. Sono una giovane che ha fatto questo bando per aprire una nuova azienda. Inizialmente la giunta regionale aveva stanziato per i giovani in agricoltura 30 milioni di euro, ma di fronte al numero di richieste le risorse sono state quasi raddoppiate. Mi pare che questa sia una risposta concreta, non assistenzialistica. 600 imprese non saranno soltanto 600 giovani che lavoreranno, saranno moltiplicati anche per quelli che lavoreranno nell'azienda e per quello che sarà l'indotto e per quello che attrarranno anche in termini di innovazione. Grazie a tutti.